Ciao, sono Carolina, sono coach olistico, mi piace aiutare le persone a stare meglio e ho deciso di fare questo corso con Patrizia per aumentare le mie capacità e questo corso di channeling l'ho trovato veramente molto interessante grazie alle meditazioni che ci ha fatto fare, ci ha portato a un livello di frequenza maggiore e ci ha permesso poi di canalizzare messaggi meravigliosi per altre persone, messaggi mirati, messaggi canalizzati e tutto questo lo voglio poi portare ovviamente nella mia vita quotidiana quando ho tratto i clienti, consiglio Patrizia per la sua professionalità perché è veramente molto brava, lo fa con amore, nella luce e sono stata molto contenta, grazie